Ad uno zio, il sacerdozio costò 16 anni di carcere. Così, Monsignor Virgil Bersea, oggi vescovo di Oradea, che fu ordinato sacerdote clandestinamente in Romania durante il periodo comunista, lo nascose per anni anche alla sua famiglia. Fino al 1989, quando, con il muro di Berlino, crollò anche il comunismo e anche per il popolo rumeno iniziò una nuova vita e, proprio perché nuova, non sempre facile da gestire. È un grande dono di Dio questa libertà. È molto importante saper viverlo quando i nostri creano certi disagi e anche per il fatto che questa libertà che la viviamo non è da tanto lungo tempo e non sappiamo veramente bene come si deve gestire la libertà. Il 2007, anno delle entrate in Europa della Romania, è stato l'anno del boom dell'immigrazione a Rimini. 754 rumeni si sono seduti a tavola per pranzare alla Caritas. Erano stati 446 nel 2005 e 405 nel 2006. Adesso a tavola ci sono ogni giorno 2, 5, 6 rumeni, non di più. Che cosa significa questo? Significa che i rumeni nel primo anno in cui hanno avuto la porta aperta per entrare in Europa sono arrivati in grande quantità e sono arrivati anche tutti quelli che non avevano nessun riferimento lavorativo, tanto meno abitativo. E allora sono venuti come un esercito alla Caritas. Mentre già nel 2008 questa tendenza è diminuita. Oradea, ai confini con l'Ungheria, da tre anni ospita tre suore missionarie della chiesa di Santo Onofrio in via Bonsia Rimini, dove da un anno Padre Cristian ogni domenica celebra la messa in rito greco-cattolico per la comunità rumena. Rimini offre tante tante possibilità, tanto da punto di vista culturale, quanto da punto di vista lavorativo, lo stesso quanto da punto di vista ecclesiastico, spirituale possiamo dire. E allora queste realtà è ovvio che attirano e per questo la gente si sente bene.